TuttoFood 2019, siamo allo stand di Antonio Amato, il brand che produce pasta da oltre un secolo e siamo in compagnia di Alessia Passaturni, la marketing manager e brand manager dell'azienda. Buongiorno Alessia e benvenuta. Buongiorno, benvenuti a voi, grazie di essere qui. Raccontaci in un minuto come si fa ormai in gergo la storia del brand Antonio Amato. Allora, Antonio Amato nasce a Salerno, nella culla della dieta mediterranea, quindi è proprietà del gruppo di Martino. Noi portiamo in giro per il mondo, per l'Italia e per il mondo, la cultura della dieta mediterranea che nasce proprio nella provincia di Salerno. Siamo qui a TuttoFood a presentare tutte quelle che sono i nostri prodotti, il nostro paniere della dieta mediterranea. Partiamo dalla pasta secca diciamo che fa parte della storia della nascita della nostra azienda. Grano 100% italiano, abbiamo più di 100 referenze, 13% di proteine, quindi un prodotto che tiene perfettamente la cottura e il grano italiano macinato nelle 24 ore consente di avere una pasta molto più gustosa e molto più profumata. Dalla pasta secca che abbiamo informato, diciamo consumer, è informato adatto alla ristorazione del 3 kg che è anche biologico, quindi un prodotto chiaramente assolutamente puro e pulito per chi vuole trovare nel piatto il prodotto più salutare in assoluto. Dalla pasta secca da circa un anno abbiamo presentato sul mercato la pasta fresca ripiena e la pasta surgelata, figlia dell'acquisizione di altri tre stabilimenti tra Cremona e Reggio Emilia della Patria, chiaramente come ben sapete della pasta ripiena. Abbiamo circa 32 referenze tra il fresco e il surgelato, il surgelato adatto per la ristorazione di mezzo chilo e le bombette, di cui dopo insomma ne mangeremo un po', le bombette diciamo che sono degli gnocchi o aromatizzati o ripieni adatti per l'aperitivo per intrattenere i vostri ospiti al ristorante o al bar prima di servire il piatto principale. Buonissimi accompagnati allo spritz oppure ad un apero soda piuttosto che ad un ottimo vino bianco con le bollicine sono l'aperitivo ideale sfizioso italiano che non può mancare nei vostri ristoranti. Alessia noi siamo circondati appunto da tanti ortaggi che sono i perni principali della dieta mediterranea, diciamo che è anche parte degli ingredienti che compongono tutti i prodotti che state proponendo. Assolutamente sì, intanto tutti i ripieni delle nostre paste sono con ingredienti 100% italiani, uova 100% italiane da galline allevate a terra, senza glutammato, senza olio di palma, senza olio di colza. Abbiamo dei ripieni assolutamente originali da salsicce friarielli alla bolognese al fave pancetta e pecorino dop, veramente ripieni che è difficile trovare e anche molto lungo da preparare, quindi voi potete trovare in un pacco di pasta da cucinare, da spadellare in 2-3 minuti e sono pronti da essere serviti a tavola così che avete nel vostro piatto potete dare ai vostri e ai vostri clienti un sapore mediterraneo genuino 100% italiano preparato in 3 minuti, penso che è meglio di così. Beh direi effettivamente. Tanta bella roba Alessia che fa venire l'acquadina in bocca e allora per tutti coloro che si trovano dall'altra parte e che desiderano entrare in contatto con voi per avere maggiori informazioni, per diventare magari vostri clienti o partner commerciali, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? Assolutamente, potete scrivere a me, io insomma sarò ben lieta di smistare le richieste a seconda chiaramente dei mercati. Allora alessia.passatordi.it Alle nostre spalle nel frattempo sentivo un profumino, un signore, il vostro chef nello specifico che spadellava dei prodotti, che cosa sono? Sono le bombette di cui parlavo prima, cioè sono appunto un aperitivo, un contorno veloce che sono pronte in 8 minuti praticamente si spadellano con il burro, quindi è sufficiente una padella, una noce di burro, le bombette, ripiene funghi al pesto oppure aromatizzate a limone e zenzero, al peperoncino oppure solamente al sapore di patata, quindi un sapore pulito, da servire come aperitivo in tutti i vostri locali. Ora se mi permetti vorrei fartene assaggiare, abbiamo qui le bombette ripiene funghi. Molto volentieri, anzi il profumo dice già tantissimo e prima ancora di farlo salutiamo loro affinché io possa godermi questa delizia in tutta calma. Voi possiate vederla e magari scrivere direttamente a Alessia per poter prendere un contatto commerciale o magari avere solo qualche informazione. Alessia grazie. Grazie a voi, grazie a voi, arrivederci.